2.960.000 euro di fondi del PNRR permetteranno al Comune di Pescara di attuare un piano sociale senza precedenti e con il recupero di edifici sottratti alla criminalità che la Prefettura ha reso disponibili. Sette finanziamenti su sette progetti presentati, in Abruzzo ne sono stati finanziati dieci e sette sulla città di Pescara. La dimostrazione del fatto che sul nostro territorio le attenzioni al sociale sono massime, questi sono fondi PNRR che noi otteniamo grazie alla capacità di intercettare le necessità del territorio e alla forza di progettare cose che evidentemente vengono ritenute interessanti e attuabili sulle nostre realtà. Si chiama Housing First e si traduce in un'azione concreta nella messa a disposizione di un'abitazione per chi una casa non ce l'ha. Saranno 12 le persone interessate nel progetto che avrà durata massima di 24 mesi che saranno ospitate nei quattro edifici di Via Tevere, Via di Sacco e Via Terno. Un investimento di 1.720.000 euro, ma non il solo. 625.000 euro saranno destinate alle case cosiddette di sgancio o di seconda accoglienza. Due le residenze Demetra che saranno a disposizione di due donne con due bambini. Il progetto prevede durata di 18 mesi al massimo. Non esiste piano sociale che si rispetti, che non passi per l'infanzia. In Via Stradonetto sarà realizzato un micronido per raccogliere i bambini dai 18 ai 36 mesi. 615.000 euro il totale dell'investimento. Da non dimenticare le spese di gestione che dai 10.000 ai 30.000 euro l'anno in qualche modo dovranno essere sostenute. Un doppio risultato. Uno di legalità, perché è una dimostrazione che lo Stato c'è, che arriva, sequestra e confisca. E poi un motivo d'orgoglio, come diceva anche il sindaco, giustamente per la nostra comunità pescarese, perché riusciamo a convertire degli immobili confiscati per finalità sociali. Un riconoscimento da parte dello Stato che a Pescara si lavora bene ed è un motivo di orgoglio, non soltanto per noi come amministrazione, ma per tutta la comunità pescarese.